Io sono Anna Maria Quaresima e sono una sarta teatrale e cosplayer e faccio parte dell'associazione Fantasia, Sogni e Realtà. Ciao a tutti, io sono Daniele Legramante, sono il presidente dell'associazione Fantasia, Sogni e Realtà. La nostra associazione promuove la sartoria, l'artigianato artistico e lo spettacolo, sempre inerente a tutto il mondo sartoriale. L'idea è nata da passione comune, soprattutto da lei che era veterana del cosplay, mi aveva un po' introdotto in questo mondo. Poi piano piano mi sono appassionato anch'io e l'anno scorso è nata l'idea di fondare un'associazione che trattasse la sartoria sotto tutti i suoi aspetti perché credevamo opportuno che la sartoria fosse pubblicizzata perché comunque è un'arte oramai sempre più di nicchia, che nessuno pratica più o quasi più per niente, soprattutto per quanto riguarda il suo misura, anche le costumiste sono comunque ricercate o comunque è una parte un po' oscura anche del mondo del cinema o del teatro e si vedono i costumi ma non si vedono mai chi li fa, invece siccome c'è una passione c'è sempre un talento dietro è giusto dare spazio anche una cosa così bella, importante e poi abbiamo ricreduto opportuno anche proporre eventi che come potrebbe avvenire in altre regioni d'Italia che da noi purtroppo ancora nelle Marche non erano entrati molto in vigore, quindi anche l'idea di conoscere un po' questo mondo del cosplay o parlare di fumetti, parlare di costumi, parlare di sfilate un po' più diverse magari da quello che si potrebbe pensare, da quelle classiche insomma Cosplay è una moda giapponese, è una parola che racchiude due concetti, costume e player che significa giocare col costume, è una moda che è nata in Giappone durante le fiere del fumetto e dell'animazione e degli appassionati amavano vestirsi come i personaggi che loro amavano, quindi come personaggi dei videogiochi, dei cartoni animati, dei film e cucendosi da soli, quindi io che sono molto appassionata dei fumetti da tantissimi anni ho deciso di portare quest'arte che magari potrebbe sembrare soltanto un gioco e portarla in passerella, quindi anche usando il fumo, le luci e non portando a un livello di competizione come si fa durante le gare ma proprio come di rappresentare al meglio il personaggio e valorizzare insomma il costume e chi lo indossa. Ho visto anche un signore a Roma vestito da Gandalf, del signore degli anelli e questa è una cosa che mi è rimasta per sempre perché era una persona veramente con la sua barba, con la sua età e ho visto ragazzi più giovani proprio adorarlo, ingignocchiarsi davanti a lui perché lui rappresentava veramente per loro una guida, cioè la persona saggia, il mago saggio e lui l'ho visto commuoversi perché ha detto in tutta la sua vita non ha mai potuto mostrarsi magari divertirsi come stava facendo a quell'età. Ogni volta è un'emozione che una volta che sfilo il mio abito, che facciamo una sfilata, sono sempre tesa, emozionata e quindi forse è stata la prima volta che ho fatto proprio una sfilata che era tutto interamente sulle mie spalle ed era una potenza picena mi sembra e dopo che insomma le ragazze si erano cambiate, dopo tutto quello che era successo, le luci, l'audio, insomma ho visto proprio la piazza che si riempiva, da Wattacare si è riempita per vedere magari una cosa di cui non erano abituati, non erano appassionati di fumetti né di videogiochi, ho visto proprio una piazza gremita applaudirmi e io alla fine quando sono uscita col mio abito finale proprio pianto perché ho detto ce l'ho fatta, ce l'ho fatto qualcosa e qualcuno l'apprezza. Agli associati come abbiamo detto tante volte è quasi incredibile, l'anno scorso di questi periodi abbiamo iniziato con l'associazione, eravamo quattro soci fondatori e oggi insomma siamo arrivati attorno ai 50 e quindi abbiamo raccolto molti consensi perché comunque abbiamo esteso l'associazione anche a tutti coloro che potevano contribuire al nostro modo di fare spettacolo, al nostro modo di proporre i costumi o comunque gli abiti. Tante sarte che sono chiuse nei loro laboratori, qui nelle Marche vicino a noi, a San Lorenzo, Ancona, Senigallia, Pesaro, veramente io li invito a venirci a vedere, venirci a conoscere e se vogliono veramente a sfilare con noi nei prossimi eventi con i loro abiti perché sono sicura che ci sono tante persone che magari vorrebbero avere la possibilità di far vedere i loro lavori e quindi mi auguro che qualcuno anche attraverso questa intervista insomma venga a conoscenza della nostra esistenza, di quello che facciamo e che insomma si unisca noi con la propria arte.